L'emergenza Covid non ferma i vandali ad Avellino. Il virus dell'inciviltà, nonostante il clima di paura e tensione, continua a diffondere il seme della balordaggine. E così ieri sera, intorno alle 21.30, in una città spenta dall'incubo Covid, qualcuno ha dato fuoco a dei cartoni e dei cassoni utilizzati per la raccolta differenziata dei rifiuti da un condominio di via Serafino Soldi. Le fiamme hanno provocato anche lievi danni a un'autoparcheggiata lungo la strada e alla facciata del portone del palazzo antistante. Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco, che ha evitato il peggio. A lanciare l'allarme sono stati i residenti, che hanno prontamente allertato i caschi rossi, consentendo l'immediata operazione di spegnimento. Sul posto sono giunti anche gli agenti delle volanti di polizia. Sono state così avviate le indagini per tentare di risalire all'autore dell'incendio. Potrebbero risultare preziose per il proseguo delle attività investigativa i filmati delle telecamere di videosoveglianza installate nella zona.